altri dettagli sono chiudere come fossero delle ali i gomiti chiuderli 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 mantenete il pugno abbastanza centrale cioè il polso così siamo più perfetti centrale cioè il polso all'ombelico non fate questo primo questo è sanguigno e poi vi sembra di avere un contatto maggiore ma gli fate meno male ci vuole più tempo e un po più di forza quindi chiudete a ghigliottina andate in estensione ma chiudete queste ali nel caso mio il braccio che afferra questa chiusura mi serve per controllare perché se sono così la persona è libera se io questa l'ho chiusa la persona è più sotto controllo quel braccio il braccio che invece io uso per strangolare non solo chiudendolo mi dà il controllo cioè qui la persona se si agita non ne ho il controllo se io chiudo la persona si agita io la controllo non solo chiudendo questo braccio io aumento il controllo ma diminuisco anche l'area che il collo ha per poter respirare perché io la chiudo in tre vie una flettendo l'avambraccio due flettendogli la testa tre adducendo il braccio cioè avvicinando il braccio al corpo il movimento è questo a questo punto io vi consiglio di fare così questo è molto buono primo perché fa entrare meglio la tecnica secondo perché la persona si agiterà se voi usate il suo agitarsi quindi non rimanete fermi e gli evitate di muoversi no no muoviti pure lo segui questo farà sicché entra ancora meglio cioè trova gli spazi che si erano lasciati per imperfezione perché non lo fate tutti i giorni quando vi capiterà sicuramente ne avrete bisogno questo movimento di tronco che vi dico di fare fatelo per scuoterlo cioè non lo fate così normalmente ma quando afferrate poi fate così agitatevi che riuscite a tirare più su divincolandovi ok ragazzi va bene va bene